oggi qui alla stazione marittima di livorno si inaugura un baby pit stop unicef di che cosa si tratta allora è un progetto che è stato realizzato dal trottimis club d'italia insieme all'unicef d'italia a cui hanno aderito poi tanti dei nostri 160 club in italia abbiamo aderito anche noi e la finalità di questo progetto è quella di realizzare una stanza attrezzata come voi potete vedere in cui le mamme quando devono allattare comodamente possono stare qui allattare cambiare il pannolino possono esserci padri perché anche loro sono coinvolti nella possibilità di queste cure di non di allattamento ma ovviamente di cambio dei pannolini cura eccetera poi molte volte le famiglie arrivano anche con fratellini un pochino più grandi e quindi è uno spazio in cui quelli più grandi possono giocare possono leggere possono scrivere qualche cosa e soprattutto uno spazio piacevole accogliente che tenga conto e rispetti i bisogni dell'infanzia della genitorialità in questo arco di tempo perché la scelta della stazione marittima diciamo noi ne abbiamo già fatto uno anni fa al tribunale e quindi ci avrà stato chiesto dal nazionale di poterne fare un altro orientativamente nei luoghi di cultura nei luoghi affollati e sollecitati anche dal club di piombino che ha iniziato col fare il primo baby pit stop al porto di piombino abbiamo deciso anche noi di farlo qui perché abbiamo più di due milioni di persone che transitano questa stazione marittima e quindi ci è sembrato un luogo con una percentuale di famiglie con bambini piccoli molto elevato e questo diciamo è diventato un po per il nazionale un'esperienza pilota quella di piombino e di che ha dato a ella per ipotizzare un nuovo protocollo da fare anche con le autorità portuali per questo motivo io ringrazio moltissimo anche me li leggo per non dimenticarmi luciano guerrieri presidente dell'autorità del sistema portuale del martireno settentrionale presidente del porto livorno 2000 che hanno collaborato con noi in particolare poi l'architetta francesca picchi che ha condiviso con con me con la segretaria maria bacci con elisa amato la nostra referente dei rapporti sul territorio e abbiamo condiviso insieme a ettore gagliardi presidente dell'unicef di livorno anche poi la scelta del materiale la realizzazione ringraziamo anche tutti i referenti e tecnici del porto di livorno 2000 che sono stati gentilissimi garbatissimi solleciti nel condividere con noi questa piccola iniziativa estremamente pratica concreta ma anche simbolica perché vuol lasciare una traccia iniziativa